Onorevole, quarto giorno di votazioni presidenziali. In realtà si pensava che oggi ci potesse essere una fumata bianca, così non è. Incomincia a esserci anche delusione da parte dei cittadini che vorrebbero chiarezza e vedere poi ripartire verso un futuro più sereno il Paese. Sappiamo dare oggi delle tempistiche? Io sono d'accordo con i cittadini, credo che dobbiamo darci una bella mossa e chiudere. Detto per onestà che purtroppo viaggiamo a una votazione al giorno anziché due come di solito e quindi ci mettiamo il doppio del tempo. In condizioni normali saremo solo al secondo giorno di votazione, invece al ritmo di uno al giorno siamo al quarto giorno. Mi auguro che stasera possiamo chiudere su un nome da eleggere domani. Voi preferite un profilo tecnico, o deltissimo livello, questo è il mantra che vi ripetete tutti, ma è anche il minimo sindacale per un Presidente della Repubblica. Un profilo più politico o un profilo più tecnico? Io mi augurerei più un profilo politico e comunque sì, al di là di politico tecnico, mi interessa che il prossimo Presidente della Repubblica sia un atlantista, cioè un filo americano convinto per capire da quale parte del mondo stare nei prossimi anni, e un garantista convinto che se assiste al disastro che la magistratura nel CSM ci ha proposto in questi mesi possa fare qualcosa. Dopodiché è stabilito il profilo, ci sono più e più nomi spendibili, ci si mette d'accordo, non è una gara elettorale quella del Quirinale e si decida, però si decida perché appunto i cittadini hanno fretta di tornare ad avere un governo efficiente che risolva problemi giganteschi che colorano purtroppo la loro vita di tutti i giorni. C'è un sacco di riforme da fare, giustizia, pensioni, concorrenza, tutte cose che riguardano la vita degli italiani dobbiamo farle in fretta e bene, anche per prendere i soldi dell'Europa. Se li prendiamo siamo un Paese che può ambire a essere ricco, se non li prendiamo siamo un Paese che si deve difendere dalla povertà. Grazie.